Meno venti, meno dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ore diciassette e trenta. Ma com'è? La ringrazio signora. Dove devo fermare? È lì. Guardi signora, ho firmato. I miei osservi signora. Avvocato, ho firmato il documento. Mi mi rispetto signora. Invecino. Cara, mi hai chiamato? E allora, ti ha baciata? Certo che mi ha baciata. E che cosa pensavi che facesse? E qui c'è il documento firmato. Vuole vedere se è imperfetto arrego? Perfetto, perfetto generale. Ah, finalmente è tutto finito. Ah, mio Dio ti ringrazio. Ah, mettiamoci una pietra sola e non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Niente affatto. Niente affatto. Quale? Niente affatto. Scusa. Bisogna parlarne. Grazia, ma cosa dici? Ma che cosa dico? Quell'uomo ha baciato tua moglie. Ha offeso me, ha offeso te, ha offeso tutta la famiglia. Lo devi prendere a schiaffi. A schiaffi? Sì, lo devi prendere a schiaffi. Rincorrilo e prendi lo schiaffi. Ma se eravamo d'accordo, scusa, grazie. D'accordo o un corno, ti ho detto. Ci ha offeso tutti quanti. Ma non ha neanche un po' di dignità, no? Ha ragione, ha ragione, grazie. Andiamo, andiamo a prendere lo schiaffi. Ma non è possibile, prima glielo permetto e poi lo prendi a schiaffi. Andiamo, fermi, eh. Sì, va bene, prendiamo la schiaffi, prendiamola a cacci, tagliamola a pezzi. E così non se ne parla più. Ecco. Sì, grazie. Lascia insale. Andate via tutti. Ciao. Andiamo. Scusi signora, ho dimenticato il bastone. Posso? I miei rispetti, signora. Villano. Impertilte. Screanzato. E dico io, un milioni così, non è neanche giusto. Chi si crede di essere lei? Si crede di essere originale, spiritoso, simpatico. Prima. Prima. Prima si fa, mi si fa mettere sotto. E poi mi perseguita sotto le finestre. Poi mi ricatta. Poi pretende e lo faccio. Ma che cosa vuole? La smetta di sorridere, sa? La smetta di sorridere. Mi fa proprio rabbia. Mi fa proprio rabbia. Sì. Io la rispetto. La odio! La odio! La odio! Vada via. Vada via. Vada via. Prego. Va bene. Vada via. Lei qui? Eh, io avevo dimenticato il bastone. Sono ritornato a prenderlo. Ecco. Ah, bene. Tanto meglio. Ho visto che è qui. Lascia stare, Tullio. Lascia stare. Lascia stare. Devo, devo farti una confidenza. Una confidenza. Sì. Sì. E il signore? Non mi ha mai baciato. Non ti ha baciato? No. Non mi ha mai baciato. Beh, se lo dice la signora. Signore. Signora. e mi dispiace. Un speak if. Oh no 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 no. Signora. Grazie. E volevamo fare una piccola cosa, scusate, tanti auguri al nostro registro. Scusate, io volevo ringraziare Sautocrazia e il nostro vecchio guardia. Volevo ricordarvi che il prossimo lavoro, non so se è stato scritto in quest'ordine, comunque il prossimo lavoro sarà in Navarra.